Allora, prima di tutto stiamo parlando di un esercizio meccanico riguardante i pattern delle scale modali, ma non stiamo parlando dei modi, della traslazione dei modi. Sul blog trovate una quantità notevole di esercizi legati a questo discorso. Per ora, per persone come il mio amico Carlo e altri, facciamo solo un approfondimento legato all'impostazione dell'esercizio diviso in quarti, sedicesimi e ottami, diseggiature non estese, in tre tonalità fondamentali per dividerle da questo discorso e impostarle su un range di azioni di questo tipo, C-measure, G-measure, E-flat-measure, quindi bimbole maggiore, e le trasportiamo in questo modo. E poi, uno, due, tre, quattro settori, sovrapponiamo tutte e sette le diteggiature partendo dalla stessa nota. Prendiamo il click, 60 bpm. Senti che il click è sempre uguale. Non è mai un accento diverso dall'altro. Ergo, prima pennate da un quarto, mano destra sempre giù. Partiamo di diteggiature di C-major. Prima azione, da questo manico, lo voglio sfruttare tutto, non partirò a scala di C. Il primo pattern in uso, se voglio non utilizzare le corde vuoto, per cui ovviamente avrò che cosa? Mi frigia. Parto G miso lidia. Ovviamente, questi sono quarti, no, è nata sempre giù. E questa ovviamente è la La diteggiatura della scala misolidia, avremo poi ovviamente l'Eolia, come tu sai abbiamo sul blog tutte le diteggiature non estese, Eolian, Locrian, Ionica, Dorian, Phrygian, Lydian e ripercorriamo sempre questo discorso. Ottavi, mano destra, down and up, perché ovviamente... Ottavi, mano destra, down and up. Ottavi, outside and up. Ottavi, onica. Ottavi. Ottavi,部分. Ottavi. Ott�, Ottavi. Ottavi,!" Ottavi, Ottavi ! Ottavi, Ottavi. Lidia. Lidia come l'inizio. Siamo andati oltre il diapason. Questo ovviamente era Do maggiore. Se dico Sol maggiore, partendo dal Sol, traslerò Ionica. F sharp. La d'orico. Perché dopo la Ionica abbiamo la d'orica, non più le odiano. E' un sistema anche di diteggiature, non solamente perché questo l'ha imparato. Eccetera eccetera. Ovviamente avrò, dopo la scala d'orica, la bifrigia, la dolidia, la remisolidia, la miminoreolica, la Fadiesi, la Fadiesis di L'Ocria e ovviamente la Sol, ovviamente la pappa, la Ionica. In questo caso ci ha trasportato Sol maggiore. E abbiamo fatto in ottavi, no? Sol, Mi bemolle cosa significa? Sol friggio. Perché stai trasportando da Mi bemolle maggiore. Che cosa succede? Tu immaginalo. Sforzati di ragionare in questo modo. Ovviamente sarebbe Fadorico. Sol friggio. E ovviamente Lidio. Misolidio. Minoreolio. Do minoreolio. Incominci a traslare. Come hai traslato prima in Do, poi in Sol maggiore, lo fai in Mi bemolle maggiore. Dovessi farlo in Si bemolle maggiore. Dovessi farlo in Fa maggiore. Cioè ti devi abituare a farlo per tutto il sistema dell'armatura di chiave. Mi è venuto in mente di fartelo fare per questo tre tipi di range. Penso di averlo fatto con altre persone, no? Mi è venuto in mente per quello che mi è venuto in mente il B flat. Perché poi lo vediamo ad esempio in Solar o Giant Steps. Non mi è venuto in mente per questo motivo. Il friggio lo utilizziamo molto anche per questo discorso. Mi si sente bene sul mic? Perché è un po' lontano. Ecco ora spero si senta un po' meglio. Ho girato un po' di più il mic. Partendo dal discorso dei sedicesimi. Chiaramente l'abbiamo presente. Non sentiremo però per far sì che il discorso diventi un esercizio proprio meccanicamente perfetto. di non suonare l'ultima nota nelle diteggiatore. Perché vedi che se tu osservi la mano destra, vedi che se io suono tutto il pattern, ho chiuso imbattere e dovrai partire sul pattern successivo con la mano in up. Nota bene. 1,2,3,4,1,2,3,4. Vedi? Rinota bene. Ok? Per far sì che questa cosa non avvenga, ma io voglio adesso fare un esercizio proprio mantenendo e per farti rendere conto dell'ordine di impostazione meccanico del 1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4. Adesso togliamo l'ultima nota dal pattern e ripartiamo sempre subito in up con la nota successiva, per cui trasliamo subito il pattern. G major, A dorian, B phrygian, C lidian, cioè trasliamo D miso lidian, eccetera eccetera. Scusami. Questa la suono due volte perché ovviamente il Do non deve cambiare dito, è una scala lidia. adesso perché ho fatto in fretta? Perché mi sono fermato sulle tre dita principali, però il pattern dopo ovviamente lo estendi, no? Se io aumento un filo, cosa che poi tu farai, 80 bpm, non c'è. 2 1 2 1 2 4 5 Per cui trasli in questo senso le diteggiature. E la cosa importante è proprio questa, che tu lo faccia in do maggiore, in questo caso mi bevole maggiore perché vedi che sto partendo da una diteggiatura frigia di sol, la maggiore. Cioè trasliamo tutte queste cose.